Leonardo c'è tuo padre in giardino che ha bisogno di una mano lo vieni ad aiutare devo fare sempre tutto io in questa casa buongiorno signor padre signor padre sua moglie mi ha detto che la devo chiamare signor padre ah padre di chi? che cosa sta facendo? sto mettendo in sicurezza la circolare e poi la metto via sua moglie mi ha detto di controllare il lavoro bene controlli pure controlli intanto vediamo un cavetto qua che va tolto grazie poi deve sistemare qui perché è pericoloso c'è una paletta lì è un bidone una busta di spazzatura bravo che bel lavoro che ha fatto cos'è? questo è un nascondiglio segreto aiuto che disordine qui dentro meglio che esco però qui è venuto proprio bene c'è da sistemare ancora qua qualche ritocco che disordine però qui è venuto tanto carino molto bellino beh a volte parliamo male di papà sto papà è proprio bravo che bel lavoro ha sistemato anche tutto qua sotto bravo che bravo però qui è tutto sporco c'è da pulire tutto bravissimo ha tagliato anche un po' gli alberi i rami quasi quasi lo assumiamo come giardiniere che bravo ragazzo pulisca pulisca metta a posto altrimenti chi la sente a sua moglie dopo quando torna bravo ragazzo studia studia io vado a controllare tuo padre fuori se ha finito però non sei più venuto ad aiutarlo prima ma che bravo ha sistemato proprio bene bravo bravo vediamo anche qua tutto a posto e ovviamente questo ragazzo non è venuto ad aiutarlo guarda quanta roba che ha buttato bravo bravo abbiamo fatto un pochino di ordine speravo che buttasse anche te adesso ti prendo aspetta aspetta che ti attiappo ma mi stavi massacrando la testa cosa fai? perché mi avete tirato la gomma? nessuno ti ha tirato la gomma sì sì che cosa stai facendo? questi ragazzi di oggi cosa fai? ti spruzzo l'acqua non osare guarda un po' sei proprio indisciplinato allora è finita la scuola sì o no? perché non mi risponde questo ragazzo leonardo vieni qua da lì esce l'acqua tuo padre sta lavando è duro duro 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 neanche mi vede ciao io sono frollo ah guarda non ti conosco con quelle antenne brutte orecchie che hai è impossibile non riconoscerti dice che ho delle brutte antenne ma secondo voi ho antenne barra orecchie sono bello sei brutto fai bubu non sono brutto fai bubu fai bubu bubu aiuto guardami nei occhi guarda che bravo il tuo papà ha pulito anche tutto qua tutto qua tutto qua aiutate i vostri genitori non fate come lui ciao no quale ciao cosa stai dicendo ciao leonardo dì con mauro e trici ci danno tanta allegria c'è la simpatia i miei vignodi leonardo dì ciao 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 ciao